Un panettone di solidarietà, anzi tanti panettoni per aiutare le famiglie fragili del territorio del Cusio. È un'iniziativa del Lions Cusio che per Natale fa questa proposta, acquistare dei panettoni e l'ha ricavato a darlo attraverso Casa Mantegazza alle tante famiglie bisognose che abbiamo da noi. Sì, è un service che il Lions Club Omenia ripete da alcuni anni. Quest'anno abbiamo deciso di collaborare con Casa Mantegazza, con la Carita e con la San Vincenzo. Riteniamo che sia un anno veramente difficile, ci sono molte famiglie in difficoltà e quindi anche con la collaborazione della Fondazione Comunitaria abbiamo deciso di impegnarci attraverso l'offerta di panettoni e quindi l'invito è quello di rivolgersi allo shop del forum di Omenia oppure direttamente ai soci del Lions Club Omenia per poter avere e ordinare i panettoni. Sono panettoni molto buoni e che soprattutto sono panettoni solidali perché ci permettono poi di trasformare le risorse in buoni di acquisto presso i supermercati Savoini che anche quest'anno hanno deciso di sostenere questa iniziativa mettendo anche il 10% che va ad aggiungersi al valore che noi consegneremo a Casa Mantegazza.